green pass anche a pesaro partono i controlli per docenti e personale scolastico nessun nuovo arrivo dall'afghanistan annullato l'arrivo a gabice di altri 20 profughi cimitero confermata la riqualificazione del padiglione dei fiori sport la carpegna prosciutto basket presenta la nuova campagna abbonamenti buona serata benvenuti al nostro telegiornale questa sera partiamo parlando di green pass perché è scattato ieri a livello nazionale il possesso obbligatorio per docenti e personale scolastico chiaramente anche negli istituti cittadini dunque sono partite le prime verifiche al riguardo vediamo questo primo servizio di daniele romagna a partire da ieri anche nelle scuole pesaresi è scattato l'obbligo di green pass per docenti e personale scolastico la misura entra dunque in vigore a ridosso dell'inizio del nuovo anno scolastico nelle giornate destinate agli esami di recupero per gli studenti e all'organizzazione complessiva degli istituti per il ritorno dei ragazzi tra i banchi durante la prima giornata di verifiche in merito al possesso della certificazione verde da parte di professori dipendenti all'istituto comprensivo statale galilei di villa fastigi a due docenti sprovviste di pass ma munite di semplice autocertificazione non è stato consentito l'accesso alla struttura ed entrambe sono state poi considerate assenti ingiustificate la regolamentazione in materia prevede che dopo cinque giorni di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro e lo stipendio vengano sospesi il resto delle verifiche nei vari plessi cittadini non ha condotto a situazioni di particolari criticità anche se in alcuni istituti si sono verificati ritardi per il corretto svolgimento dei controlli motivo per il quale è atteso l'arrivo del registro elettronico e della nuova piattaforma digitale in dotazione alle scuole come spiega il preside del liceo scientifico marconi e presidente regionale dell'associazione nazionale presidi riccardo rossini oggi ci sono gli esami di recupero dei debiti che non sono stati saldati a giugno tutto normale tutto veramente molto tranquillo ero un po preoccupato per l'inizio dell'anno scolastico il primo settembre con la presa di servizio del personale scolastico direi che il 90 per cento del personale era in regola con il green pass 11 per cento lo era comunque ma con i tamponi anziché il vaccino abbiamo avuto abbiamo effettuato tutti i controlli abbiamo utilizzato l'app verifica verifica c19 che si può scaricare ognuno di noi da google play da play store diciamo abbiamo utilizzato 5 6 collaboratori scolastici in prima battuta perché ieri avevamo 250 persone che entravano a scuola al fine di evitare una lunga coda abbiamo utilizzato molti diciamo così delegati però credo che non ci saranno grossi problemi anche perché il ministero sta prontando una piattaforma per fare il controllo sul sistema applicativo sidi che quello ministeriale che colloquia con il ministero della sanità quindi dati possono essere visti direttamente dagli operatori scolastici al mattino si apre l'applicazione si vedono quelli che sono verdi cioè dotati di green pass idoneo e poi ci sono quelli rossi sul quale ci concentreremo che sono quelli che non sono in regola ed ora notizie che riguardano dei riconoscimenti importanti perché arriverà domani un nuovo e importantissimo riconoscimento per la vocazione cinematografica di pesaro domani venerdì 3 settembre alle ore 16 a Lido di Venezia il nostro cinema solaris di pesaro riceve il premio carlo lizzani 2021 premio collaterale della settantottesima mostra internazionale d'arte cinematografica che si sta tenendo appunto a venezia creato dall'associazione nazionale autori cinematografici e intitolato al grande maestro del cinema italiano il premio carlo lizzani vuole valorizzare il lavoro degli esercenti più audaci e indipendenti penalizzati dalle regole di mercato non equilibrato e fortemente orientato verso la diffusione di opere mainstream parteciperà anche daniele vimini vice sindaco e assessore alla bellezza del comune di pesaro ed ora torniamo ai fatti di cronaca contrariamente da quanto annunciato ieri non sono previsti nuovi arrivi di profughi afghani nelle marche da ospitare presso il covid hotel di gabice mare le 20 persone che come anticipato da parte del ministro della difesa dovevano arrivare oggi nelle marche hanno trovato sistemazione presso altre strutture nazionali i 20 già ospitati invece verranno vaccinati e trasferiti in giornata presso le strutture individuate dalla prefettura di ancona e anche di pesaro urbino lo comunica l'assessore stefano guzzi che a nome della regione marche ringrazia la protezione civile e tutti coloro che hanno collaborato in questa fase di emergenza la fase dell'ospitalità presso il covid hotel di gabice è dunque terminata torniamo ora a pesaro perché anche questo pomeriggio gli agenti di polizia hanno sorvegliato l'area della stazione non è per impedire il verificarsi di disagi causati da eventuali manifestazioni annunciate anche per oggi dai no green pass dopo il sit in saltato ieri anche questo pomeriggio però non si sono verificate situazioni di protesta parliamo ora di sanità con gli aggiornamenti relativi all'andamento dei contagi da covid 19 sul territorio regionale il bollettino del servizio sanità segnala che nelle ultime 24 ore sui 2958 tamponi analizzati sono 224 i nuovi casi di covid 19 registrati nella regione marche di questi 52 sono stati riscontrati nella provincia di pesaro urbino nelle ultime 24 ore non è stato notificato nessun decesso legato al covid è previsto per il mese di settembre l'avvio dei lavori di riqualificazione al padiglione dei fiori del cimitero centrale di pesaro la notizia confermata dall'assessore belloni è stata discussa anche nel corso della riunione della nona commissione consigliare del comune che si è tenuta proprio questa mattina è confermato per settembre l'avvio dei lavori di riqualificazione destinati al padiglione dei fiori del cimitero centrale di pesaro interventi per trovare una soluzione a transenne accessi chiusi o modificati infiltrazioni rivestimenti pericolanti e agli altri disagi ripetutamente denunciati dai cittadini e dai fruitori dell'area nel corso degli ultimi anni la conferma sul crono programma arriva dall'assessore all'operatività del comune di pesaro enzo belloni il quale ha ribadito che una prima parte del pacchetto lavori sarà conclusa entro i primi giorni di novembre la tematica è stata affrontata anche questa mattina durante la riunione della nona commissione consigliare sicurezza attività economiche reti informatiche servizi demografici e patrimonio presieduta dal consigliere di maggioranza della lista forza pesaro un gran bel po vittorio petretti e alla quale ha preso parte anche il presidente Aspes Luca Pieri la commissione è una commissione periodica che viene fatta in cui veniamo convocati noi i vertici di Aspes per fare il punto sui 15 cimiteri che il comune di pesaro ci ha affidato in gestione 12 sono pesaro e 3 sul territorio dell'ex comune di Montecicardo la commissione è andata bene, abbiamo risposto alle domande e soprattutto abbiamo anche fatto il punto sul padiglione dei fiori dove non è competenza di Aspes ma del comune per via di un contenzioso giudiziario che c'è tra la ditta che ha realizzato il padiglione e il comune stesso il comune ha scelto di non attendere l'esito del percorso giudiziario ma di intervenire in proprio con un investimento di 400 mila euro per quello che c'è stato riferito dall'assessore Belloni è già stata aspettata la gara e quindi c'è già un vincitore della gara e molto probabilmente nelle prossime settimane addirittura si pensa entro il mese di settembre che possono partire i rivoli di riqualificazione che in qualche modo hanno messo in difficoltà i cittadini ma anche noi che gestiamo quell'impianto tra gli argomenti emersi nell'incontro di questa mattina e sottolineati dal vicepresidente della commissione Francesco Totaro, consigliere della Lega anche l'esigenza di implementare le opere di manutenzione per i cimiteri di periferia diversificando in modo netto gli interventi straordinari e quindi di competenza comunale da quelli ordinari dei quali invece responsabile è Aspes una panoramica sull'attuale gestione dei siti cimiteriali è stata illustrata dal presidente Pieri il quale ha poi evidenziato la necessità di trovare soluzioni per l'allargamento della sede centrale Ci sono cimiteri che hanno secoli di vita e che quindi in alcune situazioni creano problemi gestionali quotidiani per cui c'è una serie di interventi che vengono programmati e che in qualche modo danno risposte a quelle che sono le esigenze e le segnalazioni dei cittadini più difficoltà l'abbiamo sul cimitero centrale perché dal punto di vista della programmazione sono quasi terminate le aree in cui è possibile espandere e quindi realizzare nuovi loculi ad ottobre inizieremo la trasposizione delle salme che sono state tumolate in via provvisore nei cimiteri di Villa Fastigi e di Trebbia Antico e come abbiamo detto in commissione l'importante sarà da parte dell'amministrazione comunale individuare in tempi celeri quelli saranno i percorsi o di allargamento o addirittura di individuazione di aree anche esterne al cimitero centrale in cui puoi poter fare questa cosa l'altra cosa che abbiamo messo in evidenza è che la cremazione ha raggiunto il 40% rispetto alle opzioni che ci sono post funerare e metteremo in azione presto all'interno del cimitero centrale i nostri tecnici e i nostri dipendenti per la realizzazione di cinerari è giunta questa mattina al comitato ONA osservatorio nazionale Amianto la segnalazione di un presunto abbandono di Amianto da parte di ignoti nel quartiere di Villa San Martino esattamente in via Guido d'Arezzo la presenza dei sacchi è stata prontamente denunciata alla polizia municipale e ai carabinieri forestali un atto davvero vergognoso quello segnalato dal comitato alla nostra redazione che per di più è stato compiuto nei pressi di abitazioni dal 9 settembre ogni giovedì del mese la Biblioteca San Giovanni porta i suoi servizi nei parchi della città per incontrare nuovi potenziali lettori e diffondere la pratica della lettura durante gli appuntamenti nel parco sarà possibile iscriversi prendere in prestito libri restituire materiale già in prestito fare ricerche prenotazioni e proroghe si partirà il 9 settembre al parco Scarpellini per proseguire i 16 al Molaroni il 23 al parco Trulla e infine il 30 al parco Miralfiore il gruppo consigliare di Forza Italia Pesaro organizza per sabato 4 settembre alle ore 11 presso la sala del consiglio comunale di Pesaro e in diretta sulle pagine social un momento di approfondimento su quesiti referendari sul tema della giustizia un appuntamento per valorizzare ulteriormente il grande lavoro che è stato fatto per la raccolta firme prosegue il programma della festa dell'unità Villa Fastigi dopo la giornata di inaugurazione anche per domani venerdì 3 settembre diversi saranno gli appuntamenti in programma alle ore 18 e 30 nel giardino del circolo Arci di Villa Fastigi si terrà il dibattito dal titolo diritti e libertà di scelta la lotta quotidiana contro le discriminazioni di genere l'introduzione sarà a cura della segretaria del PD Pesaro Urbino Rosetta Fulvi ad intervenire saranno Sara Mengucci assessore del comune di Pesaro le consigliere regionali Micaela Vitri Emanuela Bora e la deputata PD Alessia Morani a moderare Giorgia Monticelli lo spazio espositivo ospiterà la resistenza celebrata a cura di Ampi la quarta edizione della rassegna note Oliveriane si conclude in bellezza domenica 5 settembre alle ore 17 e 30 presso la biblioteca Oliveriana con Vapor de Son concerto per voce recitante corno naturale e arpa l'ingresso sarà gratuito obbligatorio il Green Pass ma non la prenotazione è stato presentato questa mattina nella sala consigliare del comune di Pesaro il protocollo d'intesa sport inclusione e solidarietà sottoscritto da Piattaforma Solidale e l'ASD Futura Pentathlon Pesaro protocollo dal quale derivano poi diverse attività e progetti tra questi il fatto della vita vediamo il protocollo d'intesa prevede l'attivazione di attività sportive per persone con disabilità ma non solo è un protocollo che ha una una veduta molto ampia perché nel protocollo si parla anche di inclusione quindi l'inserimento nelle attività sportive sarà fatto nello spirito dell'inclusione coinvolgendo un po' tutti i soggetti che vivono attorno al disabile ma non solo nel nel protocollo d'intesa si parla anche di accessibilità di barriere architettoniche quindi ci si pone anche l'obiettivo di fare una mappatura di tutti quelli che sono gli impianti sportivi non solo nel comune di Pesaro ma l'ambizione è quella di arrivare a tutta la provincia di Pesaro è anche oltre ed è un lavoro che già Piattaforma Solidale sta facendo non so se qualcuno si rammenta Piattaforma Solidale su questo ha fatto un protocollo d'intesa con la provincia e con gli ordini professionali e questo questo ulteriore protocollo rientra fra le attività che Piattaforma Solidale vuole portare avanti su questo settore quello del rendere tutti gli ambienti dove devono vivere persone con disabilità e difficoltà più vivibili più accessibili perché la vera inclusione nasce da questo Il progetto nasce dall'amicizia diciamo che con Massimo e Sara Domenicucci che è una mia grande amica mi ha parlato di Piattaforma e essendo io anche un consigliere nazionale della Federazione Italiana Pentatron Moderno e mi occupo dell'inserimento del settore parolimpico nella Federazione Italiana Pentatron Moderno ho pensato bene di diciamo di portare questo settore a Pesaro e ovviamente abbiamo già avuto all'interno della nostra associazione sportiva che attiva dal 1990 atleti con disabilità chiaramente non essendo il Pentatron ancora abilitato per diciamo a livello nazionale per fare questo sport con le persone disabili abbiamo ben pensato di progettare e portare avanti questo progetto che si chiama Il Faro della Vita che sensibilizza diciamo allo sport del Pentatron Moderno le scuole di Pesaro e soprattutto tutto il territorio perché comunque è importante secondo me questo progetto dell'inclusione il progetto si divide in due parti la prima parte è direzionata verso i seminari per i docenti per i tecnici sportivi per tutti coloro che vorranno partecipare e poi ci sarà la parte scolastica per cui progetti sportivi all'interno della scuola con l'inclusione dei bimbi con disabilità una nuova stagione sta per cominciare e la Vitrifrigo Arena tornerà ad ospitare i tifosi che hanno la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro nel cuore nel pomeriggio di ieri presso l'azienda Centro Service la VL ha presentato la campagna abbonamenti per la stagione 2021-2022 chi sottoscriverà la tessera avrà accesso a tutte le 15 partite del campionato di Serie A che si terranno sul parquet casalingo gli altri dettagli li sentiamo in queste prossime interviste è una campagna rivolta ai nostri tifosi che purtroppo per due anni non ci hanno potuto seguire è rivolta tutta a loro è rivolta anche con il sacrificio dei nostri sponsor mi spiego meglio perché per andare nel dettaglio dei posti rimane il parterre che è aperto solamente per i nostri sponsor ma i posti non sono sufficienti per loro si privano di una parte di posti per darli agli abbonati nostri così ci sarà più capienza nelle curve e nelle gradinate nella speranza che tutti vengano più o meno più o meno ancora i numeri non sono precisi ma forse se siamo bravi riusciamo a farli entrare tutti i vecchi abbonati è chiaro che finita la campagna abbonamenti i posti che rimangono invenduti rimarranno invenduti e verranno ridati agli sponsor che si sono sacrificati in precedenza questo dopo otto anni di presidenza è l'anno in cui abbiamo investito di più nel roster è la squadra che ci è costata di più noi siamo molto molto carichi il coach è felicissimo pensiamo di aver fatto una gran squadra che farà divertire moltissimo i nostri tifosi penso di poter dire che noi diciamo abbiamo un palasport che a livello nazionale forse è secondo solo a Milano a livello di capienza quindi abbiamo la possibilità comunque con le nuove normative in vigore causa pandevia di poter far entrare un numero di persone interessante quindi io mi auguro che si possa fare un numero importante di abbonati la cosa secondo me innovativa e intrigante è il fatto che solo gli abbonati potranno entrare quindi le biglietterie come obiettivo non verranno aperte quindi mi auguro che ci sia comunque un'attenzione e soprattutto si vada un po' anche a premiare gli sforzi che la società ha fatto negli ultimi due anni teniamo presente che l'anno scorso chiaramente non si è potuto far conto su una parte importante per il nostro budget che è quella appunto degli abbonati quindi speriamo che quest'anno ci sia una buona risposta del resto è stata costruita anche una squadra che credo possa dare delle aspettative comunque interessanti per la stagione la prelazione sarà dal 13 al 23 di settembre mentre invece per i nuovi abbonati dal 24 di settembre al 4 di ottobre chi ha la WL card avrà uno sconto i vecchi abbonati vengono azzerati nel senso che i posti che avevano storici chiaramente con il covid viene azzerato tutto quanto l'abbonato avrà la prelazione per potersi scegliere il nuovo posto quindi chi prima arriva meglio sceglie Continuiamo a parlare ancora della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro perché parte alla grande la pre-season della squadra pesarese i Biancorossi all'esordio nella Liburnia Cup in corso a Opazia in Croazia battono per 105 a 109 al termine di una partita bellissima il Cedevita Olimpia Lubiana una prestazione eccezionale da parte di tutti i ragazzi allenati da coach Petrovic che affrontano un avversario di grande livello con il giusto spirito e la necessaria grinta e cattiveria agonistica in preparazione ai primi match ufficiali che attendono i pesaresi in questo 2021-2022 Chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale con un approfondimento perché con la pandemia da Covid-19 e l'attivazione della didattica a distanza è cresciuto pensate di circa il 10% il numero di studenti bocciati o che sono stati promossi con un debito formativo da recuperare prima dell'inizio dell'anno successivo conseguente è stato anche l'aumento di assistenza richiesto proprio dai ragazzi per la preparazione dell'anno da recuperare o delle materie in cui sono state registrate delle insufficienze ne abbiamo quindi parlato con Pierpaolo Bellucci che è coordinatore didattico del centro di preparazione scolastica e assistenza universitaria centro studi Pesaro noi del centro studi Pesaro oramai da diversi anni siamo specializzati nella preparazione scolastica quindi nel conseguimento del diploma per giovani adulti ma questo periodo di pandemia e di didattica a distanza ci ha portato ad aumentare in maniera consistente i servizi per anche coloro che frequentano la scuola pubblica e quindi per esempio devono prepararsi agli esami di riparazione quelli per i debiti formativi e proprio anche perché il periodo di didattica a distanza ha portato a livello nazionale ma anche a livello locale a un più 10% di studenti con debito formativo soprattutto nelle materie principali pensiamo a matematica inglese latino e quant'altro sia anche di studenti che purtroppo sono stati bocciati e quindi si rivolgono a noi per recuperare gli anni scolastici e poi fare il percorso fino al diploma noi ci siamo accorti parlando con tante persone che si rivolgono a noi che alcune problematiche riscontrate nella didattica a distanza sono state legate al fatto che non è stato cambiato il metodo dalla didattica in presenza alla didattica a distanza e noi per esempio qui al centro studi in alcuni periodi abbiamo fatto didattica a distanza ma abbiamo cambiato metodo abbiamo reso le lezioni più sintetiche più schematiche con delle pause e questo ha consentito un buon livello di apprendimento laddove invece questa cosa non è stata fatta gli studenti si sono trovati davanti a un computer non riuscendo bene a seguire e protrattasi la situazione per più di un anno scolastico ha causato lacune e quant'altro che noi adesso in alcuni casi ci troviamo a dovere tra virgolette curare un servizio importante già introdotto all'interno di centro studi è quello che riguarda anche gli studenti con disturbi di apprendimento si diciamo la normativa sui disturbi dell'apprendimento nota come DSA BES dove BES sta per bisogni educativi speciali è diciamo in crescita in crescita nel senso che sempre più studenti ricorrono alla certificazione perché c'è una maggiore attenzione nei confronti di problematiche come la dislessia come la discalculia e noi da ormai un paio d'anni abbiamo un servizio specifico abbiamo personale formato per far fronte per adattare la didattica a chi ha disturbi di apprendimento quindi mappe concettuali spiegazioni sintetiche e mettere insieme tutte quelle strategie per soprattutto ridare fiducia al ragazzo il percorso di centro studi va poi anche oltre l'obiettivo scolastico dei ragazzi degli studenti che appunto iniziano a frequentare i corsi sì perché poi facciamo assistenza universitaria nel periodo estivo ci capita molto spesso di fare delle preparazioni per i test di ammissione pensiamo a non so la missione a medicina la missione a biologia insomma a queste facoltà che di solito hanno il numero chiuso noi facciamo dei corsi specifici individualizzati e poi facciamo l'assistenza universitaria classica che può essere un'assistenza complessiva su tutto il percorso universitario quindi con professori che seguono lo studente nella preparazione ai singoli esami oppure la preparazione per preparare un esame due esami tre esami a richiesta dello studente da da alcuni anni siamo contattati da sportivi di alto livello di varie discipline abbiamo lavorato con motociclisti abbiamo lavorato con calciatori abbiamo lavorato con ciclisti e abbiamo lavorato anche con persone che stanno provando la strada del mondo dello spettacolo e quindi magari si trovano a essere spesso fuori a Milano Roma per i loro impegni ecco il servizio che proponiamo è la capacità di modulare l'impegno didattico con gli impegni extrascolastici di questi ragazzi quindi facendo un calendario personalizzato riusciamo a consentirgli di arrivare al diploma ma volendo anche di fare il percorso universitario abbiamo parlato quindi di corsi destinati a studenti ma ci sono anche corsi qui al centro studi destinati a persone adulte sì 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 ogni anno diversi adulti uomini donne di diversa età dal 25enne al 45enne si rivolgono a noi per frequentare la scuola superiore e arrivare al diploma per loro abbiamo pensato delle lezioni individualizzate in orario prevalentemente pomeridiano o tardo pomeridiano serale diciamo proprio per venire incontro alle esigenze di lavoro e di famiglia e quindi riusciamo a fare la preparazione scolastica anche per gli adulti in tutti gli indirizzi il mese di settembre il titolare del centro studi Giovanni Lamedica e lo staff sono disponibili per colloqui informativi conoscitivi di presentazione del nostro anno scolastico che inizierà a metà ottobre e tutti i contatti i riferimenti sono reperibili nelle pagine Facebook e Instagram e allora davvero complimenti a centro studi Pesaro perché dà un aiuto efficace e costante a tanti cittadini del territorio e non solo adesso vediamo cosa c'è questa sera in prima serata perché questa sera c'è un approfondimento dedicato alla terza età tanti consigli utili e pratici in generazione silver alle ore 21 e 15 e poi vi ricordiamo come sempre che da pochi giorni il nostro telegiornale lo trovate solo alle ore 20 e 40 la nostra prima edizione è sempre alle ore 20 e 40 in diretta sul canale 633 e anche sulla pagina Facebook queste sono le repliche il giorno dopo lo stesso giorno scusate alle 23 e 30 e a mezzanotte 30 il giorno seguente potete ritrovare l'edizione alle 6 e 45 quindi prima della nostra rassegna stampa all'ora di pranzo alle 13 e 15 e alle 14 e 45 ho detto davvero tutto grazie per averci seguito domani 7 eventi puntuale con la nostra rassegna stampa condotta da Daniele Romagna buona serata